Buonasera da Michelino DJ Pienza Radio 67 Oggi giornata a TG all'insegna dei festeggiamenti da parte del norvegese per il passaggio di turno dei Cugini Svedesi è stato un pomeriggio incredibile, veramente felicissimo di questo passaggio di turno proprio una cosa incredibile, hanno festeggiato col pensionato di Fano fantastico, fantastico, una cosa bellissima, proprio eccezionale si sono abbracciati con la gente, caroselli, caroselli in tutto il paese, incredibile le due rotonde, tappa le due rotonde, è stato stappato, gli artificieri hanno fatto un lavoro fantastico hanno fatto in prodere questo ordigno, tutto si è svolto nei tempi diciamo previsti le famiglie sono rientrate, tutto a posto, domani sarà una giornata calduccia ci siamo conosciuti insieme, ciao da Michelino DJ